Buono lo schieramento, c'è l'errore di Minerva Gas, parte veloce Mutucrone che cerca di scavalcare Marcus Kapp, vediamo se riuscirà il sorpasso, così è quindi Mutucrone in vantaggio sulla curva davanti a Marcus Kapp, partita veloce dalla seconda fila Naracast, primi 200 metri passati da Mutucrone in 14.2 Naracast cerca di farsi il posto, vediamo se riuscirà la manovra Gianvito D'Ambroso, cerca però Maglio Cappana di rientrare e probabilmente Gianvito alla fine sbaglia a Naracast, ora è a Nakitas che va subito a chiedere strada, vediamo cosa farà Mutucrone dopo i primi 400, molto veloci 29.1 ma vuol giocarsela davanti Alessandro Dettoris, parlottano i due Roberto Andraghetti chiede che intenzioni ha ma probabilmente sembra tirare indietro Mutucrone ma è ancora in vantaggio e probabilmente corre davanti, passaggio davanti alle tribune quindi Mutucrone in vantaggio su Nakitas di fuori, poi Marcus Kapp all'esterno avanza anche Lindis Norfro che si trascina nucleare Ors, intanto il giro veloce in 59.9, 15 la frazione davanti alle tribune, molto ardente al comando Mutucrone e Nakitas al suo fianco, poi Marcus Kapp affiancato dall'Indis Norfro, segue poi lungo la corda anche Nodless BF, poi Lion Bot in tale il chilometro in 1.15 secco, Nakitas sempre ai fianchi di Mutucrone, poi Marcus Kapp all'Indis Norfro, Nakitas sempre sul punto di prevalere a 450 metri dalla conclusione, la frazione delle scuderie è passata in 14.6 quindi Nakitas prende il largo su Mutucrone, poi cerca l'avanzata anche Lindis Norfro ma Nakitas è in netto vantaggio, sembra ormai avere ipotecato la corsa, siamo a 250 metri dalla conclusione, Nakitas in netto vantaggio, passa la curva ancora in 14.8, retta d'arrivo, è una passarella per la figlia di Tossout che sembra tornato sui suoi livelli giovanili, Nakitas viene a vincere questa F all'ottima media di 1.14.5, secondo posto per un ancora valido Mutucrone mentre percorsi interne avanza forte Norris Club e fa sua la terza posizione, 36 con gli ultimi 400 metri, ripetiamo l'ottima media di 1.14.5, 1.90 la quota da favorita al totalizzatore Nakitas, Roberto Andraghetti, il training è quello di Lorenzo Baldi.